Come creare un mittente email a prova di spam? Lo vediamo insieme in questo video tutorial. Vi spiegherò quindi passo passo come creare un mittente email che sia verificato e che il dominio del mittente sia autenticato. Questa è una delle regole per creare delle email e delle newsletter che non finiscano in spam. Come non finire in spam? L'autenticazione e la verifica del mittente è uno degli step fondamentali, basilari, importantissimi. Se usiamo una piattaforma di invio email newsletter come sms hosting non è mai consigliato l'utilizzo di email per l'invio come gmail, libero, hotmail, ma si chiede sempre di utilizzare un'email legata ad un dominio. Quindi per esempio info-smshosting.it in cui il dominio ovviamente è sms hosting. Questo perché? Perché abbiamo la possibilità di fare quello che vi mostrerò oggi, ovvero di autenticare il dominio tramite campi record dns. Adesso andiamo a vedere come fare. Clicchiamo nella sezione email e andiamo nella parte mittenti. A questo punto andiamo a creare un nuovo mittente, inseriamo l'email del mittente, inseriamo il nome del mittente che è associato appunto al mittente, potrebbe essere quello che volete, insomma il nome del vostro brand, qui andiamo ad inserire tutte le informazioni della nostra azienda, ovviamente devono essere informazioni reali, perché questo ci serve per diciamo conformarci alle leggi anti-spam come can-spam. Confermiamo i nostri dati, ci arriva un'email di notifica che dobbiamo verificare, quindi andiamo nella nostra casella di email e clicchiamo sul link che ci è arrivato. Qui vedete che l'email è verificata. Ora però ci viene richiesto di autenticare il dominio. E questo qui è quello che io vi dicevo che è molto importante affinché il nostro, diciamo le nostre email non finiscano in spam. Ed è proprio questa la verifica del dominio, quindi l'autenticazione del dominio che è da fare. Per farlo dobbiamo utilizzare il DNS, dobbiamo avere accesso al pannello di configurazione del nostro dominio. Vi faccio un esempio di dove lo trovate in Aruba. Se avete un altro provider come Register, Godeddy, Server Plan o altri, più o meno le cose sono sempre simili, quindi troverete delle cose molto simili a quelle che vi mostro ora. Entriamo nel nostro pannello di controllo di Aruba, quindi nel pannello di controllo del nostro dominio. Clicchiamo su dominio, gestione DNS e name server. Qui andiamo nel record CNAME, perché vedete che erano tre CNAME, quindi andiamo proprio in quella parte di record lì, e andiamo a cliccare su gestisci. A questo punto ci viene chiesto di aggiungere un record CNAME. E abbiamo host e nome CNAME. L'host è il dominio, che è questa colonna qui. Noi andiamo a copiare questo dominio e andiamo ad inserirlo nel nostro dominio principale, che sarebbe per esempio, non lo so, il tuo dominio .it. Inseriamo nella parte dell'host, andiamo ad inserire quello che trovate sotto la colonia del dominio. E nel nome CNAME andiamo ad inserire questo valore, quindi questo qui che trovate qui. Andiamo ad inserirlo qui e clicchiamo su aggiungi. A questo punto dobbiamo fare la stessa cosa per tutti e tre i record, ok? Quindi per tutti e tre dobbiamo fare prendere questa parte qui e metterla nella parte superiore. Prendere questa parte qui e metterla nella parte del nome CNAME. Clicchiamo su aggiungi per ciascuno di questi campi. Li troviamo quindi poi in questa lista qua e clicchiamo su prosegui. A questo punto scendiamo alla fine della pagina e clicchiamo su salva configurazione. Ci vorranno fino a 24 ore affinché la configurazione sia propagata in maniera corretta. Potrebbe volerci del tempo affinché noi clicchiamo qui e vediamo sempre questi punti esclamativi che significano che non è ancora stato verificato. Entro le 24 ore noi cliccando su verifica DNS vedremo tutti i pallini accesi, vedete, verdi. E quindi questa è un'indicazione e ci indica che il nostro mittente è stato autenticato in maniera corretta. Quindi abbiamo fatto l'email verificata, abbiamo autenticato il nostro dominio in SMS hosting e quindi il nostro mittente sarà assolutamente a prova di spam. Quando noi andiamo a poi creare la nostra campagna email andremo a scegliere il mittente che desideriamo. Quindi tra i mittenti ovviamente che abbiamo configurato. Come vedi non è così complesso farlo, è ovvio che bisogna avere un attimo di accortezza di non fare diciamo degli sbagli per quanto riguarda la parte DNS però appunto avete visto che basta entrare nella gestione DNS del vostro hosting andare nella sezione CINAME e inserire i vari campi, i vari valori. Bene, se avete delle richieste, delle domande su questo tema mi raccomando potete scriverle nei commenti oppure contattare l'assistenza, vi lascio poi in descrizione anche tutti i contatti. Mi auguro che insomma dopo questo video tutorial sia un'operazione che riuscite a fare seguendo step by step quello che vi ho mostrato. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video e mi raccomando se non avete ancora un account SMS hosting potete provare gratuitamente la piattaforma per 30 giorni senza carta, senza rinnovo in maniera assolutamente gratuita. Anche per questo poi vi lascio il link in descrizione. Grazie mille, ci vediamo!